Benvenuti questa sera, nonostante la pioggia e quasi il nevischio non vi siete fatti spaventare, quindi grazie di essere qua. Prima di tutto do il benvenuto a Pegamo Cirpur e ringrazio Christian Sesena e la CGL perché appunto questa iniziativa di questa sera, che è promossa l'iniziativa laica da Arci Reggio Emilia nell'ambito delle giornate della città, è organizzata in collaborazione con CGL Reggio Emilia che da tantissimi anni ormai, credo più di dieci, forse fino alla nascita delle giornate 13 anni fa, è un partner molto importante di iniziativa laica, non solo per le giornate ma appunto per tutte le nostre attività. L'incontro di questa sera fa parte di una mini rassegna invernale delle giornate della città che quest'anno non si sono svolte nella classica formula estiva, ma si svolgono appunto in inverno aspettando poi l'edizione 2024. L'incontro di questa sera appunto ci porta a guardare lo sguardo lontano, lo sguardo in Iran, ma non solo. Pega appunto è un attivista di origine iraniana, vive in Italia da sempre, diciamo una vita piccolissima, è un attivista per i diritti umani, i diritti digitali e fin da quando sono iniziate le proteste in Iran dopo la morte di Masamini si è fatta portavoce di quello che sta succedendo in questo paese per raccontare appunto cosa vivono sulla loro pelle ogni giorno donne, giovani, studenti, le persone che protestano contro un regime che definire oscurantista forse è un complimento. Io non rubo tantissimo tempo, solo due parole per dire che questo incontro organizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna e tal proposito ringrazio anche il consigliere Federico Amico che è Presidente della Commissione Parità e Diritti della Regione e con il contributo del Comune di Reggio Emilia. Non sottraggo altro tempo la discussione e al termine ci sarà appunto uno spazio per le domande e spero che ce ne siano numerose come sempre. Grazie a tutte e a tutti. Grazie Simona, anch'io ovviamente vi ringrazio della presenza e ringrazio Pega perché sta facendo un tour de force per l'Italia per essere con noi oggi e parlerò molto poco proprio perché abbiamo dei tempi anche molto contingentati quindi lascerò parlare molto lei e quindi parto proprio da una domanda che credo molti si stiano facendo. Noi qualche tempo fa dopo l'efferato omicidio di Masciamini siamo scesi in piazza anche in Italia c'è stata una mobilitazione molto forte e lo slogan era ed è donne vita libertà e come spesso però succede nella nostra realtà che è una realtà dominata molto dall'istante, dal contingente in cui anche le grandi battaglie si accendono e poi entrano in una fase silenziata e anche questa partita che si sta ancora giocando in Iran è diventata un po' come posso dire silenziosa oppure sorpassata o surclassata da altri eventi. Raccontaci un po' cosa è successo dopo questa fiammata importante di attenzione pubblica internazionale in Iran e cosa sta succedendo adesso? Buonasera a tutte e tutti e grazie mille ovviamente per l'invito è sempre un dovere morale e non solo insomma parlare di quello che non solo accade in Iran ma perché raccontare l'Iran poi mi dà il lancio per tutte le altre ingiustizie perché è un buon paragone con quello che ci manca qui molto spesso anzi devo ringraziare la CGL perché da sempre è stato insieme ha organizzato anche piazze soprattutto quelli su Roma e non solo quindi è stato veramente tanto vicino alla comunità iraniana che appunto non aveva né i mezzi né la conoscenza anche di organizzare appunto una manifestazione quindi è ovviamente è doveroso il ringraziamento cosa è successo? che appunto Masa Jina Amini Jina perché era il suo nome in kurdo è stata appunto brutalmente uccisa però appunto è un'ennesima morte di tutte quelle che noi in realtà conosciamo da sempre che in questi 44 anni continua a commettere il regime della Repubblica Islamica Iraniana però nessuno era mai riuscito a scatenare questa rabbia e poi renderla effettivamente un'azione concreta che tutta la nazione poi ha seguito quindi le donne kurde per prime sono scese in strada e hanno poi stimolato tutte le altre e tutti gli altri a scendere a scendere e non restare fermi da lì appunto nasce Donna vita libertà che in realtà è uno slogan kurdo che abbiamo ereditato dalle donne della resistenza kurda quindi è come se fosse un riecheggiare un po' la storia e poi arriviamo a influenzare anche gli altri paesi anche l'Afghanistan per esempio le donne afghane hanno iniziato a protestare davanti all'ambasciata iraniana Kabul e quindi ha mobilitato effettivamente poi anche donne in occidente, in Europa c'è stata grande solidarietà che però come ogni cosa che è così straordinaria ha una resistenza mediatica bassa e infatti dopo probabilmente in Italia se non fosse stato anche per lo spazio che è stato dato al festival di Sanremo probabilmente non avrebbe poi attecchito così tanto nel cuore nelle case di tantissimi italiani ecco poi l'importanza di portare su questi palchi con un così tanto ampio pubblico temi sociali e non solo poi però arriviamo a dopo l'estate appunto a settembre c'è stata la grande ondata di nuovo per ricordare l'anniversario e poi si è arrivati alle due proclamazioni una del premio Sakharov e poi al premio Nobel per la pace e poi silenzio silenzio che fa molta paura fa anche un po' pensare a quello che probabilmente sono le scelte politiche l'Iran ecco non si nasconde per le sue grandi ricchezze naturali noi abbiamo un disperato bisogno di gas e petrolio e che l'Iran insomma ne dispone in gran misura però ovviamente questo comporta degli scambi e si teme tantissimo che in realtà il silenzio o la pacatezza che in questo momento si ha con il regime sia una scelta mi spiego meglio quando a novembre l'Iran è stato cacciato letteralmente è stato votato la sua uscita dallo status sulle donne delle Nazioni Unite insomma questo ovviamente che chi reprime le donne per prime non può insomma portare i suoi dati anche non reali sulla condizione delle donne in Iran e quindi non può far parte ovviamente di un tavolo così importante che poi dà degli indici globali però poi abbiamo trovato a novembre la presidenza del social forum sempre delle Nazioni Unite a Ginevra presieduta dall'ambasciatore iraniano che non ha fatto assolutamente parlare le ONG e neanche quando si parlava diciamo in maniera non conforme secondo loro ecco c'è un trattamento che non è chiaro non è chiaro neanche la posizione all'inizio molto forte per esempio dell'Unione Europea che ha condannato e continua a condannare tuttora quello che fa il regime però le sue sanzioni sono sempre un po' leggere perché non vanno sulle persone effettivamente su tutte le persone che dovrebbero essere sanzionate ma sono sempre poche persone e poi c'è una risoluzione importantissima che ancora ferma il Consiglio Europeo dopo l'approvazione del Parlamento Europeo di mettere nella lista dei terroristi i guardiani della rivoluzione islamica e ferma al Consiglio Europeo appunto quindi perché questa scelta è ancora ferma lì dal 2022 in realtà quindi anche qui non riusciamo a capire il motivo perché? perché evidentemente il corpo dei guardiani della rivoluzione è un corpo di 200.000 persone quasi che rispondono solo e soltanto alla guida suprema quindi sono un corpo totalmente distaccato dalla polizia di Stato insomma carabinieri insomma quello che possono essere diciamo le forze dell'ordine classiche insomma per come li conosciamo ecco sono un altro tipo di organizzazione che in realtà abbiamo poi capito quanto legame abbiano con i paesi vicini e non solo quindi quante negoziazioni alla fine fanno loro per conto della guida suprema per esempio con il Venezuela o per esempio con tutta l'area comunque del sud ovest asiatico ma anche abbiamo visto anche con gli Stati Uniti ecco dare il visto al presidente Raisi due volte per andare a parlare nelle sedi delle Nazioni Unite di diritti umani insomma fa veramente ridere letteralmente perché dopo quello che si è visto che continuiamo a vedere che fa il regime invitarlo dargli il visto appunto quel visto che non viene dato ai ragazzi e alle ragazze che vogliono scappare perché magari vogliono studiare perché vogliono lavorare perché vogliono avere una vita perché vogliono avere la libertà e non viene dato il visto invece viene dato a lui e questo fa capire appunto quali sono le scelte ma soprattutto qual è il ruolo reale dell'Iran nella sua geopolitica e nel suo governo nel cosiddetto Medio Oriente e non solo e quindi vediamo tantissime concessioni che vengono date ma allo stesso tempo l'Iran continua a fare quel che vuole all'interno perché le manifestazioni o le rivolte non sono finite cioè è tuttora in corso però sotto forma di disobbedienza questa disobbedienza civica che viene portata avanti con grande fatica perché io sfido chiunque di noi che magari appunto siamo abituati a essere un po' più insomma in libertà uscire senza velo o uscire in pantaloncino ci vuole coraggio perché si sa la fine che fai puoi essere fortunato e uscire puoi essere sfortunato e morire e quindi è molto complesso parlare ancora oggi di della volontà che gli iraniani stanno portando avanti con grande fatica se la risposta da fuori è è arrivato l'Iran prego facciamoli parlare ecco la legittimare così ancora di più il regime porta però poi a un'ulteriore difficoltà all'interno quindi le ragazze e i ragazzi non hanno non hanno smesso effettivamente a a portare avanti questa rivoluzione sotto lo slogan donna vita libertà donne e uomini non cambia di qualsiasi generazione ci sono tantissimi pensionati che un giorno sì l'altro pure sono in protesta oppure agricoltori perché non hanno non hanno l'acqua non hanno un modo per neanche per portare avanti le proprie attività oppure ci sono ecco la ricchezza del paese sono sempre in mano a pochi sono sempre in mano a pochissimi e ovviamente i guardiani della rivoluzione c'entrano e quindi non è neanche ben distribuito tutto quello che potrebbe esserci e quindi c'è tanta difficoltà nel fare la spesa banalmente ovviamente quando una donna va in giro senza velo viene segnalata viene sospesa dal lavoro viene licenziata e quindi poi si diventa monoredditi in famiglia ci sono tantissime modalità che utilizza il regime per reprimere il popolo e sta usando veramente tutti i mezzi quindi non solo quelli violenza fisica psicologica insomma tutto quello che avete visto ma anche questi quindi di tipo di isolamento economico o di chiusura dei conti in banca cioè senza anche alcun motivo però lo possono fare e lo fanno perché si fanno le leggi ad hoc e quindi e quindi portano avanti il loro la loro ripressione in ogni forma e quindi è profondamente siamo dispiaciuti ovviamente tra l'altro la premio Nobel per la pace Nargis Muhammadiyah ha anche fatto un appello al mondo perché siamo fermi perché non si fa non si fa alcuna azione e ce lo stiamo chiedendo perché ci stiamo dimenticando dell'Iran e in questo momento ovviamente i riflettori sono su sul conflitto Hamas Israele ma chi è che porta avanti alimenta diciamo la parte anche comunque considerata terroristica ecco se noi se si dà spazio continuamente all'Iran non ci si può aspettare se non delle conseguenze e l'Iran molto spesso non è il diretto cioè appunto ha i suoi tentacoli che aiutano un po' vari paesi e questo non è una novità non lo dico io ovviamente lo dicono grandi testate giornalistiche che di quanto il regime si sia costruito effettivamente una rete fittissima e molto forte di alleati alleati che sono quelli che anche faranno parte dei paesi BRICS da gennaio e questo dovrebbe insomma mobilitarci tutti non possiamo stare comodi sulle sedie perché la maggior parte di questi paesi non eccellono di tutela dei diritti umani e se saranno il nuovo ordine mondiale dobbiamo renderci conto di dove stiamo andando che scelte stiamo facendo noi come occidente che non è ovviamente puntando all'estremizzazione che chi si arriveranno a delle soluzioni ma è ovvio che bisogna 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 seguire di più perché c'è un po' troppo silenzio il primo gennaio è fra due settimane e questi cioè quindi bisogna anche capire che ruolo prenderanno che quali saranno i loro perché insomma l'Unione Europea non è presente in questo l'unica magari forza ecco democratica non è presente lì e le Nazioni Unite hanno solo sollecitato i paesi a essere diciamo garanti dei diritti umani ma diciamo che sono paesi che non è che ci possiamo aspettare che possano rispondere quindi è un momento complesso però appunto non si capisce bene che posizione ha l'Italia che è sempre in questo ultimo periodo ecco non ha non si esprime non si espone l'ultima probabilmente parole spese per per la violenza in Iran sono state probabilmente le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e basta non c'è stato più nulla da parte di nessun nessun organo ecco politico e quindi è un po' pericoloso questo silenzio io volevo chiederti in base alle cose che hai detto molto molto interessanti come si organizza immagino si è organizzata questa forma di disobbedienza non credo che sia lasciata al singola iniziativa della donna che esce e decide in autonomia ci sarà un modo sotterraneo non so le università il mondo della scuola dove si riesce ancora a fare rete per poter far sì che questa fiamma non si spenga del tutto allora ci sono ci sono stati avrete visto insomma le immagini degli avvelenamenti nelle scuole femminili quello perché era un modo per frenare la disobbedienza che portavano avanti le ragazze e soprattutto i motti di questa rivoluzione di consapevolezza quindi volevano limitare il più possibile luoghi in cui si potessero manifestare e non c'è in realtà forse è così spontaneo questo movimento che non stiamo vedendo che i leader le leader sono proprio le persone sono il popolo che ovviamente questo porta all'Iran insomma essere anche davanti a una scelta storica molto importante perché in Iran non c'è mai stata una partecipazione democratica cioè c'è sempre stata una famiglia che era capo del paese e poi è arrivata la Khomeini che ha creato questa repubblica islamica quindi effettivamente non c'è mai stato un esercizio democratico quindi di perché è stato sempre soppresso anche durante insomma la monarchia le monarchie insomma solo chi era pro aveva diritto di parola chi no insomma veniva incarcerato quindi perché tutte le persone che possono essere il futuro democratico dell'Iran sono in carcere o sono insomma già stati uccisi quindi questa forma di disobbedienza sicuramente alimenterà gruppi sicuramente però ci vorrà tanto tempo perché non può un gruppo diciamo esporsi perché verrebbe insomma cancellato sul nascere quindi ci sono sicuramente elementi come per esempio insomma vedrete avvocate avvocati che continuamente vengono incarcerati o intellettuali che però ovviamente non hanno quella forza non è permesso di avere quella forza di creare effettivamente un gruppo e portare avanti un possibile cambiamento quindi internamente portano avanti questa disobbedienza che appunto è spontanea però succede nelle grandi città c'è anche da dire questo poi l'Iran è un paese così grande con una diversità interna veramente molto ampia sono diverse lingue diverse culture diverse religioni i kurdi sono sunniti nella regione del Sistan e Baluchistan che sono probabilmente tra i più martoriati perché le minoranze etniche e religiose non sono riconosciute dal regime e quindi sono soppresse e Masa Gina Mini appunto era kurda e uno dei motivi per i quali probabilmente ci sono andati giù più pesanti è appunto perché kurda i kurdi non sono riconosciuti dal regime così come anche la comunità Bahai così come i Baluchi insomma tutte le minoranze etniche non sono riconosciute e quindi si fa una gran fatica anche per quello che vedo io ad avere anche un'unità su quello che può essere il futuro quindi per adesso l'obiettivo di tutte queste minoranze che si sono unite è sostanzialmente quello di buttare giù il regime e poi decidere effettivamente che cosa può accadere nel paese però l'Iran non è un paese appunto che può permettersi di stare fermo è un paese che è fondamentale nel suo punto geografico ma anche con i suoi collegamenti ovviamente per ritornare quello che dicevo prima per le sue risorse e quindi è veramente difficile pensare che in questo momento ci possa essere qualcuno che possa essere il leader o la leader di un cambiamento ma è ovvio che questo cambiamento lo stanno portando avanti ecco su più fronti che è anche un modo per disperdere le energie e la forza del regime che però continua a essere stabile abbiamo visto Masa Ginamini insomma le due ragazze che hanno più scatenato i giornali occidentali quindi Masa Ginamini a settembre del 2022 invece a ottobre del 2022 3 armita di 16 anni che invece lei era totalmente senza il velo che è stata uccisa allo stesso modo quindi non è cambiato nulla e non è stato preso alcuna diciamo alcuna forma di illegittimizzazione del regime quindi non è cambiato nulla se non appunto nel lasciare ancora di più regime a fare quello che fa e portare avanti poi queste sue alleanze che sono il problema principale secondo me secondo me è un'infelice contraddizione in Iran stiamo parlando di un paese con un tasso di scolarità altissimo con un'età media di 27 anni quindi un paese che ha una naturale predisposizione al volere un futuro che però gli viene costantemente negato guarda tu hai posto un tema secondo me rilevante su cui non si riflette mai abbastanza c'è sempre comunque una motivazione capitalista o economica anche quando si tratta e soprattutto quando si tratta di contrazione dei diritti delle persone in questo caso le donne la prendo un po' larga perché vorrei portare la riflessione sul fatto che anche noi siamo radioci in Italia da una settimana di grosse mobilitazioni rispetto a un fenomeno che sta colpendo il nostro paese da da un po' di tempo che però anche lì come Masha Miny ha avuto un elemento di innesco che è stata la morte ferata di Giulia Cecchettini e sto parlando dei temi del femminicidio quindi cambiando ovviamente gli scenari i contesti eccetera anche noi vediamo in una fase generale una regressione dei diritti delle donne un ritorno prepotente di un'idea patriarcale di società in cui secondo me gioca un ruolo anche la religione non si è mai come posso dire riflettuto abbastanza in questo tempo sul fatto che noi siamo comunque un paese in Italia con una forte tradizione cattolica che ha un ruolo comunque non pienamente come posso dire una funzione pienamente emancipatrice nei confronti delle donne quindi da questo punto di vista c'è da un lato questo fenomeno per cui sembra che l'elemento della donna sia un obiettivo costante un ostacolo da rimuovere alla realizzazione dell'affermarsi di regole che calpestano i diritti sociali e impongono regole economiche diverse dall'altro secondo me c'è anche questa connessione rispetto a un ruolo molto forte in Iran dell'estremismo islamico ma anche una presenza costante anche di rettaggi religiosi anche in altri paesi questo per creare un ponte rispetto anche al fatto che tu ci hai fotografato una situazione complicatissima per le donne in Iran anche in Italia paese democratico le donne stanno subendo attacchi dalle persone in questo caso non ovviamente con una responsabilità diretta della politica ma dagli uomini estremamente violento secondo me c'è qualche connessione qualche elemento di riflessione su questi su questi due punti di contatto c'è tu cosa ne pensi? Assolutamente il famoso patriarcato che non ancora tutti accettano come come descrizione per quello che posso raccontare l'aneddoto di prima parlavamo prima di cominciare questo incontro io ho parlato con Pega di come impostare la serata e parlavamo di patriarcato gli ho fatto io la parola patriarcato e Pega mi ha detto ma allora qua si può dire patriarcato perché vado in molti posti in cui ancora sentirsi dire in Italia parlare di patriarcato dà quasi fastidio alle persone che ascoltano questo credo non sia interessante sì perché poi è molto generazionale perché in realtà la generazione Z e millennial sono diciamo accettano e lo dicono a gran voce si è visto anche nelle piazze ma la generazione di prima perché probabilmente ecco molti dicevano no ma è maschilismo sì ma il maschilismo da dove viene quindi nel momento in cui ecco si cerca di capire l'origine delle cose e allora ci arriva anche in aiuto la Treccani e insomma ce lo spiega perfettamente il patriarcato che cosa significa e che storia il patriarcato è una storia scritta il patriarcato no cioè non esiste non è mai esistito praticamente il patriarcato è proprio il dominio del maschio bianco ovviamente e che ha portato poi le donne stesse magari anche a pensarla esattamente come loro quindi chiamarsi al maschile perché così si è più credibili negando anche la storia un po' perché io ho studiato per esempio ingegneria edile e in cantiere volevo essere chiamata architetta ma cioè già essere chiamata signora era un problema perché si è sempre signorine in questo paese fino a quando non arrivi a 50 60 anni sei sempre signorina e non è assolutamente un bene una cosa che che poi è molto legata poi all'aspetto fisico no e poi il complesso delle donne verso il proprio aspetto fisico le rughe quindi non accettarsi invece l'uomo brizzolato va bene che ingrassa va bene e invece la donna no perché deve essere sempre signorina perché deve essere sempre bellina ecco cioè questo è un ecco il linguaggio che crea il pensiero il pensiero che poi crea le azioni è importante è importante capire anche che insomma dovremmo anche noi in primis smetterla di riprendere magari qualcuno tutte le volte da quando ho 25 anni che chiedo di essere chiamata signora perché io sono una signora non sono signorina signorina potrebbe essere prima dei miei 18 anni però quando si è maggiorenne sono per la legge lo devo essere sul posto di lavoro lo devo essere credibile sempre quindi imporsi è importante però insomma le donne hanno sempre un po' più di difficoltà perché c'è questa quest'idea che appunto bisogna essere gentili bisogna essere carini perché da quando si è piccola si dice non fare questo non dire le parolacce non fare tardi non uscire da sola tutto questo alimenta poi la mancanza di autostima e la fiducia in se stesse che poi porta a soprattutto a frequentare anche una certa tossicità nei rapporti i dati che stiamo vedendo sono terribili sono terribili ma erano cose che ovviamente tutti sapevano ma che tutti facevano finta di niente quante persone conoscono donne che vengono trattate male dai compagni quante volte abbiamo fatto finta di niente perché dal vicino di casa stava urlando non lo so e si sentiva che magari stava accadendo qualcosa e non si è fatta nessuna azione verso quelle persone ecco anche questa indifferenza questa omertà che adesso si sta mettendo in discussione lo sta mettendo in discussione la generazione Z la generazione Z è la più coraggiosa in tutto il mondo sta mobilitando il mondo sta praticamente mettendo sta facendo crollare le basi dello status quo praticamente di tutto quello che si era costruito fino ad ora che sta portando ovviamente anche al cambiamento forzato in alcuni campi per esempio anche da un punto di vista lavorativo i ragazzi non ci stanno più per i contratti contrattini che non li permette di vivere piuttosto lasciano il paese continueranno a farlo e quindi anche perché si vedono puntare il dito verso qualcosa che non hanno creato non è la generazione Z che ha creato la disoccupazione non è la generazione Z che ha creato il debito quindi sono tutte responsabilità che si sta scaricando verso dei ragazzi che gli si sta lasciando il mondo sostanzialmente anche abbastanza male dato che noi a maggio abbiamo iniziato a utilizzare le risorse naturali del 2024 quando ancora non era finito il 2023 quindi noi saremo sempre in debito con il pianeta con le generazioni con tutto quello che avverrà ma non per colpa sicuramente di chi nasce ora e poi la mancanza di presa di responsabilità che invece sta portando mettendo al muro con forza insomma questo è un po' comune in tutto il mondo e infatti sono sono da una parte comunque fiduciosa per per il cambiamento radicale che si sta che si sta portando lento però radicale e poi ovviamente le manifestazioni insomma l'imbrattare i muri che non sono forme violente di proteste io ricordo sempre che la violenza era negli anni 60 negli anni 70 insomma quindi non possiamo parlare di ragazzi violenti che devono essere incarcerati o rinchiusi perché stanno stanno dicendo la loro in un posto dove non hanno voce e che ovviamente qui finiscono in carcere o finiscono ovviamente le resti domiciliari o insomma vengono denunciati in Iran vengono uccisi sono due cose diverse però l'invito che faccio invece alle generazioni più grandi è se in Iran hanno così tanto coraggio a scendere in piazza tutte le generazioni e rischiare la morte ma in un paese democratico ma perché stiamo fermi perché stiamo zitti perché siamo comodi non c'è da star comodi siamo veramente in un momento storico importante poi quest'anno insomma 2024 ancora di più probabilmente per alcune scelte anche politiche più più europee verso dove stiamo andando non non c'è questa urgenza no l'urgenza che si vede magari in Iran o nei paesi appunto con più necessità ecco in Italia non c'è questa necessità del mobilitarsi ecco perché per esempio in Iran ci sono tantissime ci sono le quote azzurre nelle università perché i ragazzi non riescono ad avere spazio in confronto alle ragazze e qui invece abbiamo il problema opposto abbiamo l'abbandono scolastico praticamente alle scuole medie in alcune regioni ed è un dato allarmante che però non non mobilita non muove non sprona e questo è un po' un po' pericoloso ecco questa indifferenza che poi non ci fa capire ovviamente dove potremmo arrivare per quello che invece appunto è stata la 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 miccia in Iran è stata Massa Ginamini in Italia è stata Giulia Cecchettin ma soprattutto ovviamente in Iran appunto sono state le donne kurde che hanno alzato la voce con Donna Vita Libertà in Italia invece la sorella di Giulia quindi Elena Cecchettin che è il padre ovviamente che con una grande lucidità che io veramente ammiro che con grande lucidità entrambi hanno espresso quali sono le reali problematiche del presente non del futuro del presente perché noi abbiamo un problema oggi sì è vero è urgentissimo fare entrare nelle scuole in maniera obbligatoria le materie che educazione all'emozione ai sentimenti e sessuale ma bisogna soprattutto fare qualcosa nell'immediato e nell'immediato non si sta facendo nulla e anche qui non c'è un immobilismo non c'è quella azione che invece ci dovrebbe essere subito dopo Giulia ci sono state altre tre donne e non si trattava ovviamente di minigonne non si trattava di trucco o di alcol ma erano anche signore grandi quindi è un problema strutturale che si chiama patriarcato e se non si chiama con il suo nome non riusciremo mai a capire appunto neanche che strumenti utilizzare per poter per poter appunto combattere questa questo retaggio culturale che ovviamente non nasce adesso ne sono millenni che noi ci portiamo questa questa questo questo modo di fare modo di parlare e il modo di vedere il corpo della donna e quindi vale nelle società occidentali così come nel Medio Oriente ovunque quindi è un grido però che tutte le donne devono portare avanti insieme e quindi in ogni angolo del mondo è iniziato il movimento Me Too è iniziato poi non una di meno adesso donna vita libertà ma ci saranno tantissime altre che sicuramente nasceranno perché le donne sono la la metà del pianeta se non di più quindi se non c'è parità ci sarà sempre disuguaglianza ovunque quindi è importante ecco trovare un'alleanza una sorellanza che globale che possa portare avanti la voce di tutte perché appunto sono tutte oppresse e soppresse però mi vieno a dire una cosa un tema che qua ha toccato molto io credo che ha segnato un po' la svolta è stata la messa proprio in discussione anche degli uomini almeno in Italia cioè per la prima volta il problema dei femminicidi ha chiamato in causa lo stereotipo del bravo ragazzo lo stereotipo di dire ma io non farò mai una cosa del genere quindi al di là della necessità di creare una sorellanza io credo che questa fra tutte le donne io credo che questa battaglia si vinca anche con un ruolo di autocritica fatta dall'uomo e soprattutto con una messa in discussione profonda di quello che è non il patriarcato in sé ma il patriarcato in me perché io stesso sono figlio di una cultura patriarcale io sono figlio di una situazione che anche che mi ha tra virgolette su certi comportamenti magari che non arrivano allo scambiare una relazione amorosa con un possesso e quindi a fare azioni efferate se quel possesso mi viene tolto però comunque mi porta ad avere degli schemi mentali che mi fanno leggere la realtà e la realtà delle donne in una certa maniera ti chiedevo sempre su questo tema com'è invece il mondo maschile nell'Irandia adesso cioè c'è un'alleanza dei ragazzi soprattutto dei giovani tu hai parlato rispetto a questa battaglia delle donne perché le donne sono quelle che disobbediscono la disobbedienza dell'uomo come si può attuare in Iran c'è infatti se è durato più di un anno e continua a durare perché c'è un'alleanza perché appunto se la metà della popolazione non vale nulla nessuno andrà avanti e questo insomma gli uomini iraniani lo sanno molto bene come disobbediscono gli uomini per esempio durante l'estate gli uomini per esempio non possono andare in giro in pantaloncini quindi disobbedivano andando in giro in pantaloncini che potrebbe sembrare veramente una stupidata però in Iran non si può insomma si viene ripresi e non non si può però per esempio i tassisti che prestano servizio a donne senza velo vengono fermati vengono bloccati sul lavoro oppure ristoratori che fanno sedere insomma servono diciamo donne senza velo l'attività viene chiusa temporaneamente insomma per punirli tra virgolette oppure vengono prese le targhe vengono mandati messaggi rispetto a comportamenti o prestazioni di servizi di vario tipo insomma donne senza velo ecco però se ne fregano continuano ad andare avanti pagano le multe perché è uno dei modi che il regime in qualche modo riesce a riscuotere anche con poco effort è proprio questo cioè si fa pagare le multe e sono tante immaginate centinaia migliaia di ragazzi che sono in arresto si paga per farli uscire che poi non è che si è salvi qualche giorno fa è stato rilasciato il rapper Tomas Soleil che poi dopo due giorni l'hanno riarrestato nonostante avevano pagato una bella cauzione ma in realtà è stato riarrestato quindi ci fanno questi giochini per riscuotere da una parte perché ovviamente hanno bisogno di liquidità e dall'altra però diciamo il popolo non molla quindi si aiutano in questo modo ci sono stati durante le proteste tantissimi uomini e padri di famiglia che hanno perso la vita perché difendevano magari la figlia di un altro oppure i ragazzi che sono stati impiccati con l'accusa di aver ucciso il famoso Basigi sono stati condannati a morte 23 persone per insomma per l'uccisione di un Basigi i Basigi sono un gruppo paramilitare volontario sono tra i più spietati senza senza anima che possano esistere sono paragonati all'isis per come vengono addestrati sia donne che uomini questo non cambia sono brutali entrambi e ecco questo per dire che in Iran sta funzionando perché appunto sono più generazioni e sono insomma le due metà diciamo della popolazione che collaborano perché è l'unico mezzo che hanno perché hanno provato nel 2009 attraverso le elezioni a poter cambiare attraverso i moderati l'andamento del regime ma abbiamo visto che non è cambiato perché il movimento verde cercava insomma di chiedere appunto dove fosse il voto dei ragazzi ma è stato soffocato con il sangue così come negli anni successivi insomma ci sono state tantissime proteste in Iran l'ultima grande era stata anche nel 2019 che era dopo aver rinalzato il prezzo della benzina insomma le persone hanno iniziato a protestare che però ha portato alla morte di 1500 persone in tre giorni quindi in tre giorni hanno chiuso internet e hanno ucciso 1500 persone ma altri centinaia di migliaia arrestati che però non si è saputo ovviamente nulla e poi arriviamo a queste quindi in qualche modo si sentiva che doveva succedere qualcosa perché sono 44 anni che la gente cerca di avere un futuro io sono stata fortunata perché i miei genitori nel 99 sono riusciti a venire in Italia non sono scappata non c'è stato perché molto spesso mi dicono ma tu sei diversa dagli altri immigrati sì perché io non ho avuto nessun diciamo il trauma di quei viaggi infernali io non l'ho avuto io ho proprio fatto un trasferimento perché sono stata diciamo privilegiata e quindi sono arrivata diciamo in pace ecco che poi è importante normare e dare anche una direzione verso le leggi sulla migrazione perché appunto saranno sempre di più saranno sempre di più e lo dimostra anche l'ultima grande strage che c'è stata a Cutro dove si sono registrati tantissimi iraniani che scappavano cioè banalmente scappavano anche per essere curati perché chi veniva sparato o chi viene sparato non può andare in ospedale e curarsi come funziona qui e quindi hanno iniziato ad intraprendere questi viaggi della morte per potersi curare per poter recuperare l'occhio che però non poteranno neanche recuperare però almeno curarsi per non morire perché ovviamente se hai delle pallottole dentro c'è qualcosa che succede al corpo quindi sono temi importanti sono temi necessari perché ovviamente c'è anche il tema l'iran dove prende chi sono i suoi fornitori perché bisogna anche chiederselo c'è stato un caso che ha portato a galla un'azienda di Livorno una testata francese ha trovato ha avuto queste pallottole e si trattava appunto di un'azienda italiana e quindi è importante sapere anche dove vanno a finire insomma le risorse che noi abbiamo che produciamo e chiedere perché sono finiti lì ecco e perché sono finiti nei corpi insomma dei ragazzi ecco la responsabilità anche nostra qui quindi non siamo esenti non siamo staccati da quello che accade in Iran ma così come ovviamente in altri paesi non è solo in Iran ecco però il ruolo dell'Unione Europea e dei paesi come l'Italia insomma bisogna anche dei produttori insomma bisogna metterli in chiaro bisogna parlarne e bisogna dimostrare ecco che cosa succede che scelte si sono prese il tema economico è sicuramente uno dei più sottovalutati rispetto alle ragioni che spingono anche su temi che apparentemente sono distanti diritti civili diritti sociali la contrazione degli uni va con la contrazione degli altri l'aumento degli uni va nelle fasi diciamo espansive dei diritti e della cultura con l'aumento degli altri e tu prima hai fatto un cenno a un episodio nella tua discorso chiusura di internet e noi ovviamente il titolo della nostra giornata è anche la rivoluzione con lo smartphone hai fatto anche un cenno alle differenti approcci delle generazioni noi siamo nell'era della digitalizzazione dei social media ma molti hanno un approccio col social media che o è un approccio mirato alla frivolezza o semplicemente alla sostituzione delle social media a prassi più complicate tipo andare in piazza a protestare no scrivo un commento magari negativo sui social ho già fatto il mio dovere oppure scrivo nel mio profilo la mia visione del mondo la mia opinione molte volte anche non richiesta e non utile però esiste ed è anche recente un uso diverso dei social media un uso che io posso dire politico che può diventare anche civile l'ultimo esempio è stato quello che è successo a Gaza e l'utilizzo dello smartphone e dei profili Instagram hanno consentito di costruire o ribaltare la narrazione che stava veicolando Israele rispetto a Damas e rispetto anche a quello che loro stavano facendo nel territorio di Gaza cioè immagini molto forti molto drammatiche che bucano in maniera come posso dire così in attesa anche quello che è la narrazione che vorrebbe chi in quello momento sta gestendo la guerra e squaderna un universo che altrimenti noi non avremmo conosciuto ecco io ti vorrei spingere a fare una riflessione proprio sull'utilizzo di questi strumenti di quanti sono stati importanti di quanti potrebbero essere importanti ovviamente e se possono assumere una funzione etica utile che non sia semplicemente quella di postare le foto dei gattini o robe di questo tipo i gattini servono per farci uscire un po' dal shadow ban e allora sì perché ovviamente insomma noi siamo abituati comunque a la televisione i giornali quindi una una comunicazione tradizionale ma che comunque bene o male racconta quel che deve raccontare poi cambia di paese in paese c'è chi è più neutro invece chi è più schierato però insomma ci sono ecco la verità la verità poi sta sempre nel mezzo non è mai sempre solo su un'unica testata o un unico canale e i social network appunto fanno vedere quello che è la realtà in tempo reale in tempo reale noi riuscivamo ad avere dall'Iran sapevamo dove erano le proteste dove erano anche le sparatorie ma dove erano anche magari alcuni raduni e questo ha portato a testimoniare in prima persona quindi il popolo era diventato anche reporter in quel momento quindi erano dei veri e propri giornalisti sul campo perché ovviamente erano gli unici che potevano dire quello che accadeva e perché i veri giornalisti invece se pubblicavano qualcosa venivano ovviamente rinchiusi quindi il popolo ha iniziato a utilizzare ma questo già nel 2009 in realtà a utilizzare facebook e twitter come piazze per mettersi d'accordo e poi uscire e protestare e da lì il regime ha capito che doveva limitare queste applicazioni tante che le ha chiuse diminuisce la velocità di internet ci sono alcune zone dell'Iran invece che non c'è proprio nulla quindi tutto questo è voluto quindi l'Iran ha iniziato a costruire questa infrastruttura tecnologica molto forte che ha anche un suo ministero insomma l'Iran appunto non è un paese terzo mondo diciamo è un paese molto sviluppato molto forte soprattutto da un punto di vista tecnologico e quindi ecco perché poi i ragazzi studiano soprattutto le ragazze studiano ingegneria informatica perché è uno dei modi anche per diciamo rompere i filtri poter insomma fruire anche nel web e soprattutto trovare anche più lavoro quindi i social network sono diventati poi effettivamente il posto dove le persone potevano mettere tutto potevano testimonare tutto ma se non avevi diciamo la censura da parte del regime perché comunque in Iran per poter infatti diciamo che io lo sapevo da sempre perché ogni volta che ovviamente andavo in Iran non potevo entrare su Instagram per esempio e mettere la foto o mettere fare una storia e dovevo entrare prima dall'applicazione VPN quindi va a oscurare diciamo l'IP del telefono quindi potevo entrare sui social network e poi è stato infatti lì che si è vista anche una grande solidarietà dal punto di vista digitale quindi da parte degli attivisti che hanno iniziato a aiutare queste applicazioni VPN a rimanere di più in piedi perché il regime cosa fa attacca diciamo con delle azioni mirate le applicazioni VPN proprio per non permettere alle persone di poterci accedere quindi da tutto il mondo c'è stato questa c'è sempre questa solidarietà digitale che porta le persone ovviamente gli smanettoni a aumentare la forza delle applicazioni VPN per contrastare l'attacco del regime è una vera e propria battaglia digitale e quindi quindi c'erano tutti questi attivisti che alimentano diciamo rafforzano anche attraverso delle donazioni per esempio queste applicazioni per poter combattere il regime anche digitalmente e poi le persone ovviamente a pubblicare i contenuti con grande difficoltà perché ovviamente internet delle volte non c'era proprio è lì che noi pensavamo che succedesse il peggio dato che nel 2019 dopo aver chiuso internet per una settimana non avevamo nessun segnale nessun segnale hanno ucciso 1500 persone quindi temevamo ovviamente che succedesse questo però anche lì c'è stato per esempio grandi dichiarazioni anche di Elon Musk vi porterò Starlink Starlink costa un botto insomma sono pochissime persone se lo potevano permettere anche in maniera clandestina perché ovviamente dovevano arrivare dalla Turchia quindi insomma c'è stato anche queste grandi dichiarazioni che però non hanno portato a nulla effettivamente però poi dall'altra parte appunto c'è l'altra censura la censura delle piattaforme Instagram ha dal primo giorno eliminato da account anche con milioni di follower contenuti che documentavano appunto quello che stava accadendo in Iran con l'alert che questo post insomma nuoce non è non è in forma gli standard della community anche qui la responsabilità invece di queste piattaforme che sono tutte private sono degli stati privati noi siamo i cittadini meta per esempio solo che non chiediamo nulla in cambio ecco l'altra appunto parte diciamo del mio attivismo e non solo di tanti altri che è quello di chiedere alle piattaforme private di essere effettivamente la voce cioè di effettivamente essere quello spazio dove in maniera controllata ovvio vengano diciamo condivise delle richieste di aiuto perché quelle sono richieste di aiuto non fanno male alla community fanno male alla community nel momento in cui tu oscuri un paese oscuri un popolo quello è grave perché se non lo fa uno stato perché lo stato iraniano ovviamente oscura il suo interno non lo può fare una piattaforma che teoricamente dovrebbe essere un posto democratico aperto a tutti ecco la responsabilità delle aziende nel prestare il proprio servizio nel anche in maniera etica essere dare spazio a delle voci che non hanno voci in altro modo e questo ha portato ovviamente tantissimo a far rumore digitalmente Instagram Meta a un certo punto ha pubblicato un report in cui diceva insomma annualmente insomma racconta tutti gli hashtag per esempio più utilizzati ma Samini era il quinto hashtag più utilizzato al mondo quindi il rumore che si è fatto effettivamente digitalmente ha portato a avere una certa risonanza però questo avviene nel momento in cui tutti i cittadini digitali perché lo siamo tutti nonostante siamo cittadini italiani francesi cinesi eccetera ma siamo comunque cittadini digitali ecco c'era quell'aiuto nel condividere la voce che in quel momento appunto non aveva spazio cosa che adesso non c'è adesso c'è un po' di freddezza anche digitale perché ovviamente è anche forse fisiologico che ci sono tante lotti nel mondo ci sono tante rivolte nel mondo ed è difficile ovviamente seguirle seguire tutte io per esempio seguo l'Iran perché è più vicino a me ma è complesso ovviamente chiedere continuamente di rispondere alle call to action però è necessario quindi l'invito è sempre quello di seguire gli hashtag iranprotest womanlifefreedom insomma sono tutti gli hashtag che tutti gli iraniani utilizzano nel momento in cui postano qualcosa quindi possiamo essere legati attraverso quell'hashtag e gli iraniani possono sapere quante volte magari quell'hashtag è stato utilizzato quindi quante persone ne stanno parlando ed è importante questa è la solidarietà poi umana che poi a livello digitale ci unisce ed è siamo in un momento fortunato anche della storia perché se guardiamo indietro effettivamente il digitale ci ha cambiato anche totalmente la prospettiva di quelle che possono essere le nuove rivoluzioni e quindi le nuove rivoluzioni sì sono fisiche ma sono anche digitali perché noi siamo numero importante e quindi questo numero importante lo possiamo dimostrare digitalmente ecco perché l'invito appunto di condividere di seguire questi hashtag perché sono quel legame e che poi fanno effettivamente numero e fanno peso fanno massa critica ed è importante appunto il nostro ecco si può essere utili digitalmente a tutte le cause ovviamente e un modo appunto è proprio questo dopodiché ti lascio intanto ti lascio vere in che lasciamo anche la parola ai presenti per eventuali domande cioè il tema dell'attivismo digitale è un tema molto interessante perché qua sei in una sede la CGL che tende a essere l'attivismo è ancora ancorato allo schema andare in piazza e protestare e contarci per quelli che siamo durante un shopper o durante una manifestazione e forse anche per una questione anagrafica culturale non abbiamo in Italia l'età media 27 anni per capirci il tema dell'attivismo digitale inteso come lo interpreti tu fa fatica ad attecchire c'è anche il semplice utilizzo di un hashtag delle volte addirittura non si comprende l'utilità che ha questo strumento e quindi io credo che visto che si parla di rivoluzione con lo smart non ci sia questa frontiera in cui essere militanti anche in quella maniera lì che non esclude l'altro pezzo li tiene insieme e soprattutto serve a far sì che ci siano delle reti che superano quei confini che qualcuno impone per reprimere anche quello che è stato l'esplosione di quel momento di quel dissenso di quella rivoluzione perché il controllo sui social media e il controllo sulla rete che l'Iran compie è un controllo feroce che ruolo ha avuto dopo Masha Mini il ruolo dello smartphone in questo tipo di rivoluzione cioè è lì che è nato l'essere attivista digitale anche in Iran cioè ha avuto un ruolo importante immagino questo di costruire la narrazione la narrazione sì perché poi anche a livello geografico perché per esempio cosa facevano gli iraniani nel momento in cui filmavano qualche cosa che stava accadendo dicevano che ore erano che giorno era dove si trovavano quindi davano anche un punto geografico importante quindi noi abbiamo diciamo siamo poi riusciti effettivamente poi a noi intendo ovviamente noi da fuori siamo riusciti ad avere una mappatura di tutte le proteste perché ognuno diceva questo all'inizio del video ed era fondamentale quindi noi sapevamo dalla periferia X fino alla città Y e quindi potevamo contare quante persone c'erano quante quante diciamo quante testimonianze c'erano quante come magari si muovevano per esempio alcune ricostruzioni sono state fatte sulle uccisioni delle ragazze c'era questa ragazza Nika che era tra l'altro entrata anche era stata molto citata perché girava questo suo video che cantava durante una festa a scuola e lei per esempio è stata proprio ricostruita tutto il suo inseguimento e poi uccisione grazie proprio a tutti questi tutti questi frame che sono stati messi uno dopo l'altro ecco lo smartphone può essere proprio quello specchio della realtà che i regimi non permettono ma che invece nelle democrazie devono essere accolte se le piattaforme sono dei paesi democratici sono di persone che hanno una certa apertura mentale ecco devono includere anche questo lato dell'evoluzione dell'essere umano perché non possiamo pensare che davvero i social network siano solo un momento di condividere il gattino o la torta o momenti belli necessari anche quelli ma non è tutto i social network sono veramente il posto libero per quanto si possa utilizzare la parola libero per raccontare quello che accade nella realtà però se non lo permettono neanche i social network c'è un problema c'è un problema mondiale di espressione proprio Allora visto che oggi Pega come dicevo è in corsa contro il tempo e contro se stesso da questo punto di vista io direi che se ci sono delle domande abbiamo circa un quarto d'ora anche qualche minuto in più per poter rispondere insomma lei è qua disponibilissima guarda se non c'è nessuno dico una cosa io quest'ultima affermazione che hai fatto cioè mi pare di capire che in grance si oscura invece voglio dire che è un altro problema che si dice tanto ma non è la realtà come viene in grano cioè qua noi abbiamo la necessità di far una conto di informazione rispetto alla quantità che si porta perché in realtà utilizzando gli strumenti digitali siamo inodati da false verità non so se si perché comunque bisogna seguire un po' quello che è la linea perché invece là è inoscurata si lì è oscurata e basta si tra cui sono due strategie diciamo diverse si per esempio appunto sulla morte di Mika è stata fatta tutta una ricostruzione da giornalisti ester cioè fuori dall'Iran con documentazione insomma importante però il regime che cosa diceva all'interno del paese che Mika si era suicidata perché aveva problemi di alcolismo e droga insomma quello che va tanto di moda dire della generazione Z sono tutti drogati tutti alcolisti e se ne cercano e quindi ecco però è ovvio che non ha attecchito rispetto al peso che è stato dato da fuori cioè il regime nonostante abbia intimidito sempre lo fa insomma questi sono metodi mafiosi che utilizza nel andare dalle famiglie metterle diciamo alle strette per avere delle dichiarazioni dalla televisione nazionale per placare gli animi c'è stata la zia di Mika che era stata minacciata anche tua figlia farà questa fine se non dichiari che lei magari aveva problemi eccetera e quindi cosa fa una madre cioè è difficile però ecco questi metodi di intimidazione e di minacce per esempio sulle porte davanti ai palazzi delle case in cui c'erano ragazzi e ragazze magari diciamo segnalate veniva scritto sul muro come si usava insomma anche per gli ebrei sotto osservazione casa sotto osservazione proprio per far capire alle persone dentro state zitti e fermi perché sappiamo dove siete dove vivete ci sono tantissime storie di ragazze che sono state prelevate letteralmente dalle case mentre dormivano famiglie intere divise perché magari hanno visto il figlio in una protesta nel momento in cui magari è morto uno della 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 polizia ecco chiunque si trovava nell'intorno era stato identificato per poi essere accusato perché ovviamente bisogna far vedere che c'è qualcosa che non va per esempio per la storia di quel basigi c'è stato hanno incolpato 23 ragazzi tutti maschi e impiccati perché la ecco sono stati accusati con il crimine più alto che è la corruzione contro Dio o guerra attraverso Dio ecco questa è l'interpretazione del regime e ovviamente questi ragazzi non hanno avuto nonostante erano in dei tribunali ma non avevano un avvocato non avevano le famiglie quindi non c'è stato alcun processo se non tutto ovviamente finto semplicemente per fare qualche video e darlo in passo diciamo alla alla nazione però è ovvio che e uno dice ma come ci fa a credere sì come si fa a credere c'è ovviamente una popolazione una fetta della popolazione che è legata al regime perché il regime porta avanti da 44 anni questa propaganda del del nemico il nemico ovviamente gli Stati Uniti Israele che ci vogliono insomma morti quindi ci vogliono conquistare e quindi come difenderci fateci stare qui noi a scuola ci dicevano di ripetere non so morte Israele a morte gli Stati Uniti sulle insomma sui nel città ci sono interi murales dedicati ai martiri oppure dedicati a insomma quelli che hanno dato la vita per il paese perché sul martire si si gioca tantissimo si è giocato tanto è una cosa bella che era successa proprio durante questi mesi che i figli dei martiri hanno iniziato a fare dei video dicendo smettetela di utilizzare il nome di mio padre perché mio padre non ha dato la vita per voi ma per la libertà e voi non siete la libertà quindi c'è stato veramente un ribaltamento incredibile però Khomeini insomma aveva creato questo suo impero proprio grazie alla storia del martire dell'orfano perché lui aveva costruito molto bene la storia la propaganda che poi ha portato al suo arrivo in Iran e accettazione perché c'è anche da dire questo insomma il popolo voleva effettivamente un cambiamento volevano una repubblica che poi è diventata repubblica islamica costruita però ad hoc non quindi secondo perché comunque i paesi musulmani insomma cambiano tantissimo non sono tutti uguali per esempio il velo la questione del velo in Iran si è sempre portato il velo ma diciamo non era non era obbligatorio perché secondo il Corano non è obbligatorio ecco quindi questa estremizzazione sono tutti strumenti utilizzati per opprimere il popolo per deviarlo in qualche modo e poi Khomeini è stato anche fortunato perché nell'ottanta quindi subito l'anno dopo la rivoluzione quindi nel momento in cui la gente si è resa conto dell'errore che avevano fatto e quindi delle donne che hanno perso il diritto all'aborto le donne che hanno iniziato a perdere tutto e hanno iniziato a ricominciare diciamo una delle rivolte sono state soppresse perché è iniziata la guerra Iran-Iraq e lì quegli otto anni Khomeini insomma aveva che si era fortificato ancora di più e quindi la sua propaganda è andata avanti i martiri insomma è stato poi ecco poi l'Irano uscito comunque da quegli otto anni di sangue non avevano neanche la forza più di fare delle rivolte ecco che piano piano hanno iniziato a portare avanti delle disobbedienze leggere fino a arrivare per esempio al 99 che ci sono state le rivolte degli universitari le università sono effettivamente il posto in cui c'è più mobilismo quindi c'è più c'è più consapevolezza c'è più ci sono più modi di fare gruppo e di poter portare avanti delle idee delle rivolte ma insomma è sempre complesso come posto però insomma ecco questo per dire che non è una questione di oggi sono veramente tanti anni perché se ricordiamo come Inie era in esilio e nel frattempo noi avevamo una forma di occidentalizzazione di massa imposta dai palavi e quindi dallo Shah eccetera che poi a un certo punto aveva creato un regime molto iniquo in questo quindi come spesso accade in una situazione tra l'altro di non so mi ricordo il compleanno dello Shah che aveva spese enormi mentre il popolo stava malissimo questa immagine è data anche all'estero di questa ricchezza di questa opulenza di questo ritorno dalla Persia antica che cozzava contro il malessere della persona lui è stato bravissimo a leggere quel malessere a fornire un'alternativa e quindi c'è stata la rivoluzione e poi è successo quello che diceva Pega cioè che poi populismo esatto populismo vero e soprattutto questa idea di recupero della purezza sull'onda della religione anche che si era persa in termini di valori eccetera eccetera guardate io direi che possiamo anche concludere qua oggi il nostro incontro io ti ringrazio tantissimo per essere stata qua con noi e soprattutto per averci portato questa testimonianza molto viva e aver fatto oggi credo un'azione civile di cui noi siamo stati tra virgolette umilmente partecipi cioè quella di dire che su questa rivoluzione non è calato il sipario non deve calare il sipario tutti noi possiamo fare anche una piccola cosa per far sì che questa battaglia come tante altre battaglie che riguardano le donne ma non solo in questo caso si guarda alla libertà di un popolo ci appartiene quindi vanno portate avanti insieme grazie mille portiamo avanti magari l'appello della Nargis Mohamadie che appunto non uscirà a parte che sta in condizioni gravissime di salute ma non potrà mai appunto ritirare il premio Nobel perché appunto è in carcere quindi mobilitiamoci anche per anche solo il valore che insomma diamo la pace appunto anche questi questi simboli importanti ecco è nostro dovere insomma fare la nostra parte da esseri umani grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi